E' stato molto interessante la giornata di oggi perché ho potuto vedere chi c'è dietro il bando Borsa Ricerca, quindi chi l'ha ideato e altre storie di borsiste come me e di chi ha già finito invece questo percorso che è stato assunto all'interno di un'azienda. E' stato molto bello perché questo ci ha permesso di continuare proprio il nostro percorso di studi, quindi è stata una bella opportunità e è sempre bello vivere questi momenti di condivisione.